segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te secondo l'onorevole tosi è regolare quello che che sta succedendo cioè che è consentito io voglio sapere siccome bilongo fa questo di mestiere perché fa il sindacalista dei braccianti della cgl va bene ho capito ma conoscerà gli i contratti di lavoro se sarà la cgl no ma che era non capito ma qui con la cgl li buttiamo mattare in galera perché sono la cgl ma poi mi dà di parte il cervello stasera però io sto parlando voglio sapere il contratto di lavoro cosa dice non sei della cgl non me ne frega un cacchio se la cgl gli studierà i contratti bilongo o no bilongo ma il contratto